Noi abbiamo voluto fortemente questo progetto, diciamo Photo East Festival, sul nostro territorio perché credo che possa migliorare, aumentare sempre l'offerta culturale sul nostro territorio anche perché abbiamo investito in questi anni tanto in cultura attivando diverse location che possono raggiungere questo obiettivo quindi oggi siamo veramente onorati di avere oggi un appuntamento all'interno di questa bellissima location che sarà un polo culturale nei prossimi giorni a venire quindi saranno diversi eventi che mi auguro che per la nostra comunità possano essere interessanti.